in questa video lezione del corso per elettronic maker parleremo dei timer dobbiamo chiarire quindi che cosa sono i timer e questo sarà l'obiettivo della prima parte di questa lezione poi vi farò vedere nelle parti successive come vengono costruiti timer e poi come si programmano vi farò vedere qualche esempio da alcuni progetti che sono stati realizzati e commercializzati quindi la prima parte sarà dedicata fondamentalmente a capire che cosa fa un timer e perché deve essere utilizzato allora io qui ho preparato e ve lo faccio vedere meglio ho preparato una serie di pdf che riguardano diversi microcontrollori di microchip quindi quello che faremo sarà prendere i data sheet di questi microcontrollori analizzarli e capire bene cosa c'è dentro io un consiglio che ho dato già più volte quello di prendere data sheet dei dispositivi elettronici e studiarseli è un buon modo per imparare un modo gratuito è un modo che ci porta molto vicino alla realtà delle cose perché andiamo a capire come i principali costruttori di semiconduttori applicano quelle che sono le considerazioni teoriche che adesso vi vado a fare cioè voi dovete partire dal presupposto che dopo una teoria dopo una parte teorica c'è sempre una parte pratica e questa si deve declinare in qualche dispositivo quindi per esempio partiremo dall'analizzare il microcontrollore di microchip della famiglia 16 fondamentalmente pic micro 16 che sono i cosiddetti mid range cioè sono il range livello intermedio ok dopo nel particolare vi farò vedere cosa fa un dsp che quindi un microcontrollore di fascia medio alta 16 bit con core dsp eccetera però prima passeremo per un micro decisamente più semplice il pic 12 f629 o il 675 sono molto simili poi capiremo come e prima di arrivare al dsp parleremo anche di qualcosa del 18 f andremo un po per passi allora innanzitutto torniamo qua io qui ho preso questo manuale di microchip ovviamente vedete che è bello corposo sono 688 pagine quindi un'altra cosa che dovete fare se volete imparare un po di elettronica è mettervi nell'ordine di idee di studiare tanto ci sono tante tante informazioni da conoscere e quindi dovete sicuramente perdere un po di tempo allora vedete qua i capitoli sono tutti ben evidenziati ci sono già per un micro di fascia bassa io direi fascia bassa all'epoca quando fu realizzato questo documento era al 1997 quindi era un mi3 adesso questi sono di fascia bassa e quindi erano già 688 pagine può essere paragonato al micro montato su arduino 1 ok il livello è quello lì allora andiamo a vedere qua nel dettaglio come sono fatti i timer allora partiamo dal timer 0 vedete che nei manuali viene sempre indicato questo è il reference manuale tanto per essere precisi viene indicato un po un percorso da seguire per apprendere il funzionamento c'è quindi una parte introduttiva ci sono i registri di controllo i modi di lavoro la gestione dell'interrupt o degli interrupt vedremo poi c'è come praticamente si può utilizzare il timer con un clock esterno cos'è il prescalera alcuni suggerimenti per il progetto le application note eccetera ok quindi andremo per passi adesso passiamo dalla parte chiacchierata alla parte introduttiva vere e proprie e andiamo a vedere qua ok qual è lo schema blocchi tipico di un timer perché dico tipico perché poi ogni costruttore declina nell'architettura come meglio preferisce però questi di microchip io li ritengo molto ben descritti quindi i manuali messi a disposizione gratuitamente alla microchip secondo me sono un buon punto di partenza per comprendere molto nel dettaglio come lavora un timer considerate che fra un costruttore ed un altro non ci sono tantissime differenze ovvero ci sono differenze dal punto di vista del nome dei registri dal punto di vista dei settaggi e anche alcune volte anche delle prestazioni questo è chiaro però quello che voi apprendete studiandone uno può essere molto facilmente migrato sul prodotto di un altro fornitore di un altro costruttore quindi quello che andiamo a vedere sono le caratteristiche di base le funzioni di base che sicuramente troverete nella stragrande maggioranza dei timer all'interno dei microcontrollori ok perché stiamo parlando di questo stiamo parlando dei timer all'interno dei microcontrollori quindi la cosa fondamentale è capire perché li andiamo ad utilizzare allora vedete qua che il timer può essere per esempio ad 8 bit ok quindi dovremmo capire cosa si intende per 8 bit ma anche che cosa si intende per counter perché generalmente un timer cioè un modulo timer all'interno del micro non è detto che possa lavorare solo ed esclusivamente come timer per esempio se io vado di nuovo qua all'architettura del mio sistema ok eccoci qua questa è l'immagine che volevo vedete che già un micro di fascia media comprende diverse porte qua sulla destra queste sono tutte le porte con i GPIO ok poi c'è ovviamente la parte di calcolo con la ALU il registro dell'accumulatore c'è la EPROM ci sono il bus che porta poi alla RAM program counter l'indirizzamento diretto indiretto ci sono tanti blocchi all'interno che fanno funzionare il nostro microcontrollore ma sostanzialmente quello che ci interessa sono per esempio le periferiche e vedete che i timer fanno parte delle periferiche quindi in questo livello di microcontrollore avremo per esempio 3 timer quindi timer 0 1 e 2 poi ci sono i convertitori analogico digitale capture compare in PWM i comparatori le porte seriali sincroni e asincroni eccetera eccetera quindi noi adesso ci focalizzeremo su questa parte qua perché? perché quando noi andremo a scrivere il programma per il nostro microcontrollore dovremo per esempio far avvenire delle cose ad un certo intervallo di tempo oppure dopo un certo tempo ok oppure dovremo per esempio contare quanto è durato un impulso e quindi non lo possiamo fare generalmente con del codice lo dovremmo fare in hardware quindi la prima cosa da capire è che il timer va ad assolvere dei compiti in hardware non li fa attraverso il software cioè è proprio una periferica che lavora in parallelo alla mia CPU e quindi va a fare dei compiti specifici liberando il carico alla CPU cioè riducendo il carico a cui è sottoposta la nostra CPU in questo modo noi faremo un tipo di programmazione un po' diverso non utilizzeremo per esempio la funzione delay che molti conoscono soprattutto se vengono dal mondo Arduino ovvero una funzione che fa sì che il nostro microcontrollore segua delle operazioni nulle cioè delle operazioni senza far nulla cioè per da tempo ok? questo in genere non è bello, non è evoluto, non è gradito e quindi è meglio utilizzare un timer allora vediamo un po' vi volevo far vedere anche l'instruction set eccolo qua questa è un'altra cosa che dovreste studiare e purtroppo venendo dal mondo post Arduino voi probabilmente non l'avete mai vista queste cose quindi quello che vi voglio far vedere è che per esempio esistono fondamentalmente tre tipi di operazioni le byte oriented, le bit oriented e le literal in control operation cioè sono diversi tipi di operazioni e tra queste qui ovviamente troviamo la NOP ok eccola qua no operation questa operazione qua questa che adesso vi vado ehi, solo questo vado a dividenziare fondamentalmente non fa nulla e adesso lo andiamo a vedere qua nel dettaglio e ve la dico perché quando utilizzate il delay fondamentalmente viene richiesta una serie più o meno lunga di queste NOP e il NOP lo guardate lo troviamo queste sono tutte le varie istruzioni di questa famiglia il NOP più o meno c'è in tutti adesso ho saltato una pagina c'è in tutte le architetture e in tutti i microprocessori allora vedete NOP label NOP quindi in assembler quando la chiamiamo la chiamiamo proprio NOP vedete operandi cioè che operandi riceve in ingresso? niente nessuno che cosa fa? no operation non fa nulla quindi perde un ciclo di clock fondamentalmente fa solo questo ok e quindi vedete status affected niente nessuno non encoding questo è come scritto beh linguaggio macchina adesso non ci interessa e quante istruzioni nella memoria programmi richiede? una ok quanti cicli? una ok viene seguita una per istruzione per ciclo macchina ok quindi i cicli delay per esempio vengono costruiti facendo queste cose qua oppure con dei loop quindi fondamentalmente non è una cosa bella ok? per questo noi adopriamo i timer cioè andiamo ad adoprare strutture un pochino più complesse ok tipo questa che fondamentalmente fanno una cosa comparano ecco perché è presente un comparatore questo qua comparano due valori uno che noi andiamo a preimpostare e che metteremo per esempio nel registro del il nostro timer che potrebbe essere chiamato period o periodo ok registro in questo caso chiamato PR2 cosa fa il comparatore? compara questo numero che potrebbe essere 100 1000 il 24 800 10.000 lo decideremo noi con un altro valore questo qua che viene invece incrementato ok? incrementato con un certo rate con una certa velocità che noi decideremo da una serie di circuiti elettronici quindi la prima cosa da capire è come funziona il timer noi andiamo a comparare il valore che noi preimpostiamo per esempio in questo registro nel PR2 con un altro valore quindi per esempio se qui mettiamo 100 questo tmr2 registro che cosa farà? inizierà 0 1 2 3 99 quando arriva a 100 questi due sono uguali e viene per esempio generato vedete qua un flag di interrupt ok? questo qui nel caso specifico di questa architettura è proprio il bit dell'interrupt flag IF quindi timer2 interrupt flag cos'è un interrupt? l'interrupt è una richiesta fondamentalmente che viene fatta al nostro processore di interrompere quello che sta facendo per assolvere un altro compito ok? quindi quando c'è un timer che genera un int un interrupt per esempio significa che è passato un certo intervallo di tempo e quindi dobbiamo dopo dopo che è arrivato questo flag andare ad assolvere alcuni compiti specifici che noi programmeremo ok? quindi adesso non è importante sapere quali sono i compiti ma capire come funziona ok? quindi in generale la cosa più semplice è comprendere il funzionamento del timer in questo modo ci sono due variabili due valori uno che cambiano e uno che è preimpostato quando i due diventano uguali allora viene generato l'evento ok? in alternativa possiamo comprendere invece il funzionamento del nostro timer anche in un altro modo perché è un altro modo con cui vengono costruiti per esempio il timer 0 quello era il timer 2 di questa famiglia di microcontrollori e ve lo dico perché vi voglio far vedere diverse tipologie di timer come è fatto il timer 0 lavora in modo un po' differente qui vedete non c'è un comparatore non c'è un altro registro ma c'è semplicemente il registro del timer in questo caso si chiama tmr 0 che cosa contiene questo registro? ma fondamentalmente contiene solo un numero che viene incrementato di volta in volta quindi potrà essere 0 poi passerà 1 2 3 4 quello che volete oppure potrà essere preimpostato ad un valore che noi decideremo cioè quando è che viene generato il flag di internet questo qua quando si va in overflow cioè quando il conteggio arriva al massimo valore possibile che per un timer ad 8 bit perché adesso stiamo parlando di un timer a 8 bit è 255 quindi quando qui arriviamo a 255 viene generato un flag di interrupt ok viene alzata questa bandierina e il timer va in overflow cioè passa da 255 a 0 cioè ritorna a 0 perché viene fatto funzionare così? perché è un altro modo con cui può essere costruito quindi noi per esempio se volessimo contare 100 cicli di questo timer che cosa faremmo? dovremmo preimpostare questo timer a 156 quindi avremo 156 157 158 fino ad arrivare a 255 a quel punto avremo la generazione del flag di interrupt dovremo andare a servire l'interrupt quando l'avremo servito pre ricaricheremo questo timer con il valore desiderato ovvero quello che ci permette di ottenere l'intervallo prescelto ok? poi vedete qua sulla sinistra ci sono diversi altri blocchi e adesso li andiamo a vedere uno per uno o quantomeno vediamo i principali per cercare di capire che cosa cambia poi dovremmo guardare anche per esempio quest'altro tipo di timer ce n'è un altro ancora che è un timer a 16 bit guarda è sbagliato il appunto il comando questa qua mi serve ok? questo qua è un timer a 16 bit e vedete che non c'è un solo registro che contiene il conteggio ma due da 8 bit l'architettura più o meno è simile ma partiamo e andiamo con calma e vediamo quello che c'è all'interno del timer più semplice poi passeremo a quest'altri e vi farò vedere le poche differenze che ci sono da uno al lato e quindi per questo è importante partire bene comprendendone il funzionamento di uno poi gli altri sono simili e quindi vediamo a tutti qui vediamo qui qui vediamo